Riferisco solo questo, non mi fate altre domande perché altro non posso dire perché siamo sotto indagini. La signora è stata rinvenuta a Castelvolturno, sta bene, e a breve verrà l'accompagnata dei familiari. Ok, non posso dire altro. Ma questa ipotesi del rotimento? Non posso dire altro, sono sotto indagini. L'indagine aperta per sequestro? Sequestro di persone reali? È confermato il sequestro? Ok, ok, invece di finire.